Musica Lezione numero 2 E come sempre è bello, come con i bambini, ripetere Ripetere le cose una volta che funzionano, ripetere Ebbene, in matematica c'è un simile concetto che è il concetto di invariante Poi che tutto si muove, tutto si trasforma Quando uno vuole fare un po' di scienza Ebbene, che codica quello che in una particolare trasformazione non muta Uno dei più importanti Grazie Sì, io non ho sete, l'ho preso perché poi volevo illustrarvi il teorema di Prauer E allora, mettete dell'acqua in un bicchiere Poi agitate l'acqua Ebbene, ci sarà almeno una molecola d'acqua Che pur avendo voi agitato Sarà trasformata in se stessa Dopo questa trasformazione dell'acqua nel bicchiere Tutte le molecole si spostano, tutte girano Però ce ne sarà almeno una che sarà rimasta Allo stesso posto Questo qui è un invariante di una trasformazione matematica E questo è il teorema appunto degli invarianti Di quelle cose che rimangono le stesse Anche dopo che uno ci ha fatto una trasformazione E con molta parte della scienza E cercare gli invarianti Cercare che cosa rimane costante Seppur in quell'apparente tutto scorre Che ci hanno insegnato La scienza è quasi sempre riuscire a cogliere ciò che rimane E molti dei giochi Nella teoria dei giochi Per esempio Race to 20 Race to 20 Va bene Allora lo gioco sempre con No mi dispiace Lo gioco con lei Posso Perché In quella apparentemente in prima fila Senza offendere nessuno Mi sembrava la più giovane Allora quella più disposta a giocare Ma non vorrei offendere Allora il gioco Però qui perde Perché io ho la strategia vincente Race to 20 Allora è così Race to 20 Uno parte per esempio da uno E si può in questo caso Sommare uno o due Fare più uno o più due Quindi uno dice uno L'altro dice vabbè Due L'altro dice quattro Sei Sette A turno uno ripete O più uno O più due O più uno O più due O più uno O più due Ebbene Vince O perde Insomma Dipende Come tutti i giochi C'è la variante misera Dove appunto La variante misera E quella dove vince Chi perde Chi perde Chi vince Il famoso gioco è questo Due cavalieri Per capire la variante misera Due cavalieri Stufi di dover sempre competere Su chi arrivava primo A un certo punto Decisero di fare la gara Su chi aveva il cavallo più lento Allora Fecero questa gara E ho detto che io avevo il cavallo più lento E ovviamente erano lì Fermi come due pistà Come le gare di velocità su pista Dove chi parte per prima Tira la volata In realtà è svantaggiato E' svantaggiato Fino a che arrivò Un esperto di teoria dei giochi E gli disse Qualche cosa E loro Riuscivano finalmente A fare la gara Ecco come problemino Vi lascio Questo problemino Come fecero A sciogliere A sciogliere l'unpass No? Questo deadlock Questo tie break Come fecero appunto A break Il tie Il legame I due cavalieri Questa è una variante misera Allora ecco che Nel caso nostro Inizio io Va bene? Sì D'accordo? Inizio io E le dico due Più uno Due Quando vuole provare lei Quattro Quattro Benissimo Quindi lei dice Lei quattro Io dico Cinque Sei Sei Otto Dieci Dieci Poi di più Odici Dodici Dodici Quattro Quattro Ma perché sa Questa ora La sera Applica l'alcolismo Vincente Cosa ha fatto? Sedici Sedici Ah sì Abbiamo detto Il primo che arriva Venti vince Lei dice sedici E io Le dico Diciasseste Sotto Bene Allora Qui c'è sotto Un Invariante Anche qui Io cerco In un famoso film L'anno Adesso poi vi dico Quale era Invariante In un altro Famoso film E l'anno scorso Marienbad Giocavano tutti A questo gioco Che mi sembrava Fosse Albert Come si era Giorgio Albertazzi Che giocava Comunque era un film Di Alain Resnée Aveva vinto anche A Venezia Il Leone d'Oro E giocavano con Dei Fiammiferi Va bene E le regole Erano Di togliere Un certo numero Di Fiammiferi Da Qualunque numero Non so Per esempio Togliere Questi due Purché Da una riga sola Anche qui Appunto Diciamo Che vince Chi Che toglie L'ultimo Mi sa che lì Giocavano la variante Misere Che perdeva Chi toglieva l'ultimo Facciamo che Chi si vince Chi toglie l'ultimo No questa è tutta Teoria dei giochi E anche qui Appunto Se giocate contro di me Perdete Perdete Io Non so Sto a giocicare Allora L'invariante Del gioco di prima L'invariante Del gioco di prima È un invariante Molto 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 Quello del race Quindi Corsa 20 È un invariante Molto naturale Che è il resto Dalla divisione Per 3 Allora lei dice 20 Diviso per 3 Da resto 2 O come scrivono i matematici Da poter ripristinare L'invariante Cioè lei Fa qualche Lei mi dice qualcosa E mi rompe l'invariante E io glielo ripristino E alla fine Visto che 20 È congrua 2 Modulo 3 Alla fine Ce l'avrò io La possibilità Di dire La cosa Molte delle strategie Vincenti Nei giochi Sono queste Nel caso appunto Di Marienbad Il caso di Marienbad Qui è un pochino Più complicato Il Pochino più complicato L'invariante Qui è un pochino Più complicato Allora qui Voi contate i fiammiferi I fiammiferi Qui ce n'è 1 Qui ce n'è 11 Perché è binario Qui ce n'è Qui ce n'è 5 Quindi E' 101 E qui ce n'è 7 Cioè E' 111 No Tirate la somma E vedete Che tutte le righe 4 2 2 Ci hanno Somma pari No Ci hanno Tutte Somma pari Allora L'invariante È Sempre Questo Mantenere Sempre La somma Di tutti gli uni Nella rappresentazione binaria Dei numeri Che rappresentano I numeri Di ogni Di ogni riga Sempre Pari Ho strappalato Voi mi direte In realtà Questa è una teoria Non so Se adesso Lei per esempio Non so Vuole giocare con me Per tanto perde Allora Provido Quale vuole cancellare? Il primo Il primo Va bene Il primo Allora a questo punto Mi ha tolto questo Va bene Mi ha tolto questo Quindi Questi Per ripristinare Il numero pari Qui ce n'è due Qui ce n'è tre Quindi per esempio Io posso togliere questo Bene Quindi Non toglie Questi qui Questi qui sono sei Quindi siamo a 110 Vedi io lì Ce n'ho uno Quindi non faccio altro Che per esempio Mettere due Andiamo avanti Sì Mettere il tempo Beh senta Toglio una riga Così facciamo prima Toglio l'ultima riga Tutta l'ultima riga Brava Grazie Così Così Facciamo prima Tanto è destinata Comunque a perdere E togliere L'ultima riga Quindi io a questo punto Cosa faccio Tolgo Queste due E quindi E adesso La prima La prima Va bene Quindi va a uno Io tolgo quello A due Uno E se lo voglio un petto E ho tolgo l'altro Vedi qui l'invariante E sempre mantenere Questo tipo di Grazie